Ciao a tutti, bentornati su Rosticine e Kpop, io sono Giuna e sono con... OBI! OBI! E quindi oggi faremo un'altra reaction, che è novità, e ci stiamo trasformando, ogni tanto non siamo più Kpop, oggi siamo Cpop! Cpop! Siccome abbiamo visto Chuang, stiamo seguendo adesso gli Into One nella loro vita, però adesso giustamente non sapevamo niente dell'esistenza dei Rice, e quindi stiamo per andare a vedere insieme il video di Zoom, che è la canzone che tra l'altro abbiamo già sentito all'ultimo episodio, insomma live, quindi sì. Ed era molto interessante! Io ho chiamato Mentore Bono tutto il tempo di Chuang, il tizio che faceva, non mi ricordo il nome, però per me è sempre stato Mentore Bono, non so quante puntate! E sì, vediamo se ne notiamo qualcun altro, anche se uno o due mi piacevano. Io ho almeno tre, tre che mi piacevano l'avevo notato, due sicuro. Però Mentore Bono è Mentore Bono e Bono. Andiamo a vedere Zoom dei Rice. Pronta? Oddio, sì! No, via! Primo video cinese che vediamo qui sul canale, ragazzi. Oddio, infatti! Abbiamo visto Vietnamiti. Eccolo! Eh sì, è Mentore Bono, sì. Mamma mia! Che bei vestiti! Che belle cose! Ora, sotto questo video arriveranno le richieste di reaction alle cose di Chuang. E sono tipo... A posto! Cioè, lo piste tutte! Ma quelle cose sopra non spariscono? Secondo me sono dei commenti. Ah, è fuori video. Ma che fuori c'è che c'è! Scusa! Scusami! E me la ricordavo tutta questa sospirazione. Io no! Io sì. Ah, capello blu me lo ricordo! Ma che buccia carina questo! 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 Ah, sono proprio buccia! Io so! Ah, queste sono buccia! Sembra Jacob! Boom, boom! Ah, giusto! Boom, 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 boom! Ehi, da ragione! Vai! Boom, boom, boom! E' bello lui Si è bello, è un po' inespressivo E' bello, un po' inespressivo Però l'avevo notato anche nel live Infatti ho detto bello Belle lunette Che carino, questo è quello che ho detto prima della Bocchi C'era una sul collo ragazzi Che figo l'editing In realtà è proprio come è stato girato Sì, perché c'è la videocamera che si muove apposta Lo usano anche gli streghi Ah sì, è vero E' che bel sederino Mamma mia, l'ho visto io C'è nel senso Mamma mia Quanto appello Che bello, ce l'aveva l'orecchio Uuuu, come mi guarda quello Ma quanti backup dancer Ah, quello che faceva la spaccata in aria Grandissimo Ah, ok Ancora non la fa, no? Sì, sì, l'ha fatta due secondi fa Però mi sono ricordata la live Cioè, si vedeva meglio Madonna, stella luna ai suoi colli Che bella la base Eh, vai Vai il dragone Le fenici Ah, infatti sì, è una fenice C'è ragione, era un drago Tadadam Wuuu Wow Waaaaaah Ah, RISE Perché RISE Cioè, il sole che sorge Questa era l'ultima Cioè, no Era la prima reaction A un video cinese A un music video cinese Quindi, se ce ne volete dire altri Sono ben accetti Sono accetti tutte le Le nazionalità di musica Insomma Di qualsiasi lingua Asiatica Per lo più asiatica Perché tanto Musica americana Non ne ascoltiamo Cioè, io non ne ascolto E non è divertente Fare le reaction Delle canzoni Nelle canzoni Nelle canzoni Nelle canzoni E beh, italiane Tanto meno Quindi Quindi sì Se volete Consigliarci qualsiasi altra cosa Scrivetela Dillo in inglese Ok Thank you so much For everyone To everyone Who has been watching Until now And This is This has been The first reaction We ever Did to a C-pop video Because we Always do Like J-pop Or K-pop Reaction So we really like Asian culture And Asian music So If you want to Recommend Any other Artist Or music video C-pop Or any other Asian Artist MV You can totally Recommend to us In the comment Down below And yeah So we can React to it If you want to And thank you for watching Please subscribe If you like Those videos Our videos Thank you Okay Ciao Ciao Ci vediamo Alla prossima E Ciao 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 Ciao!